UserBot ti permette di creare il tuo chatbot con intelligenza artificiale per automatizzare le tue conversazioni online. UserBot risponde come fossi tu, con risposte reali e intelligenti e impara dalle domande dei tuoi clienti crescendo insieme a te. Ma vediamo come funziona. Per addestrare UserBot non avrai bisogno di un tecnico. Perché si configura in modo completamente visuale, così potrai disegnare le tue conversazioni con facilità e sarà facile inserire anche degli oggetti interattivi, ad esempio per raccogliere i dati dei tuoi utenti e inviarli alle tue app preferite. Con la sezione dedicata all'addestramento dell'AI avrai accesso a funzionalità avanzate che renderanno UserBot capace di rispondere a qualsiasi domanda. In pochissimo tempo, UserBot sa come comportarsi anche davanti ad una domanda sconosciuta. Ti invierà una notifica e apprenderà dalla tua risposta automaticamente. Potrai installarlo facilmente su web, mobile, social e molto altro ancora, in pochissimi clic. E potrai personalizzarlo dove e come vuoi per garantire un'esperienza unica ai tuoi utenti. Non ti resta che provarlo. UserBot. AI for Humans. اع lezione del popolizzi per la tua risposta. IoT its Grazie a tutti.